Ci sono segnali positivi e in particolare sono tre. Il primo, gli acquirenti sono veramente entusiasti del fatto che gli stiamo continuando a proporre immobili e fissiamo visite virtuali, gli mandiamo dei video, gli facciamo vedere informazioni e soprattutto subito fissiamo appuntamenti. I proprietari sono quasi rimasti meravigliati, quando gli si dice che stiamo continuando a fissare appuntamenti e a fare attività sono sbalorditi, dicono ma come io pensavo fosse tutto fermo e voi state facendo queste cose. E terzo, la rete diretta, pensate questa settimana le nostre 29 agenzie hanno fissato più di 160 appuntamenti vendita e possiamo fare molto meglio, era solo la prima settimana, la settimana di rodaggio. Questi tre segnali positivi però devono andare di pari passo a un altro aspetto, avere gli incarichi. Quindi rinnovare gli incarichi che abbiamo perché è fondamentale farsi trovare pronti per la riapertura. Dobbiamo arrivare con centinaia e centinaia di appuntamenti vendita per la riapertura perché in questo modo faremo un ottimo servizio ai nostri proprietari e a tutti gli acquirenti. Quindi continuiamo così e attiviamoci tutti quanti. Io resto produttivo.